E mi chiede una domanda per il comissario di questo mese che è differente da quello che avrò di trattare questa ricerca in comparazione con il Parlamento del governo di Binti Hassi nel ultimo tempo, quindi si è topo il presupposto o di trattare un presupposto presuppolatorio. Un'arricchia è importante, è un'arricchia che è un'arricchia che ha dato un'arricchia di situazione financiera di un'organizzazione, nel caso di quello che non si tratta di ayer, è dato un'arricchia di lo che realmente avrò di trattare per il governo. È dato un'arricchia di l'entrata, è dato un'arricchia di il gasto. E' anche un'arricchia che ha dato un'arricchia di direzione. Ora vi faccio un presupposto, vi faccio qualcosa che vi faccio in direzione qui e qui ne vanno. Suppongiamo che vi faccio una cifra con la mia compagnia per generare più o meno 10 florini, vi faccio un presupposto di 5 florini, vi faccio calcular la margine, la mia compagnia lo vanno a ganare di 5 florini. La mia compagnia è stata un presupposto per un anno che vi faccio in direzione che vi faccio in direzione di come il plato finanziario muove durante il anno. C'è la mia compagnia che vi faccio in diverse occasioni, di diverse parlamentari aerea durante la riunione. E' stato un momento storico che vi faccio un po' di parte che vi faccio in direzione che vi faccio in direzione che vi faccio in direzione di un anno che vi faccio in diversi occasioni, nel passato, ma per un o altro motivo non lo faccio, e per sei mesi trattati un solo di 1986 per 2000 e dopo il anno che vi faccio in direzione. Quindi c'è una cifra qui, nella nostra sera è pagina qui, della nostra scena, e non ci vi faccio in direzione di questa è una lina in direzione. Nell'anno questa u�, con una riunione che vi faccio in direzione che vi faccio in direzione che vi faccio in direzione di essere una situazione reale dopo aver una cifra di un anno di presupposto. lo che va a riparare di via ora con noi attuva è già rei che ne ha qui sta ecolo è blanco e mi sta contento ora con me comincia a bladar dentro e con me comincia a llegare e per me pare di bladse ma è arrivato a 12 mi ha realizzato il mese di conacchis eloquentemente ecolo qua si sta cominciando un'album bista in cui non sta parando dicci dicci den route passò nel 2010 cifras nel 2010 lo che realmente augurdo gastare e mi sta sperando e mi ha chiesto e mi ha chiesto e mi ha dato un aviso per favore faccio pubblico per tu gente che guarda se voglio essere transparente come governo voglio pubblicare e oggi ho piuttosto che usa internet e mi sta sperando che pone ejemplare a qui nella disposizione di pueblo e mi ti vuoi bebi se mi ti guste colochi passò questa è realizzata sa che te comienzo di mega deve passò nel 2010 vai ando back nel 2010 vota mi regolando a pressuposta min 100 diosun minion florin praticamente min ok ora vota qui regolando a si e non less non a pressuposta min 276 minion a voi pagani a voi non ti gasta min 274 tanto bisaglio ma qui non si hasta gasta meno di lo che non si pressuposta non si buon ma bebi però la vista si lo che va pressuposta da 27.4% di differenza in comparazione che ha anteriore e la vista tampocco guarda bon entrat despes 2010 in adelante va corta demontrada passo va a halver bebi bebi o poi se botà batagana 10 florin de repente batagana 5 tanto boke bay gasta double triple di lo che batagana